Stiamo aspettando di entrare, mancano 5-10 minuti, non ci fanno entrare nei padiglioni in anticipo, quindi purtroppo quest'anno bisognerà vedere tutto con la folla, comunque c'è già un bel po' di gente che gira. Ok, prendiamo questo video, qui c'è una conoscenza di 4 anni fa, mi ricordo, se vi ricordate nel video potete andare a recuperare, il farfalla, che era un concetto particolare, l'hanno evoluto, è un rimorchio a questo punto con una tenda da tetto, in questo caso è un auto home, dentro hanno ricavato tutta la parte, diciamo, di soggiorno, molto molto bello, interessante, quindi c'è il frigorifero lì in fondo, è molto bello anche tutto il tendaggio superiore, molto interessante, e dietro con questa estensione, che poi sostanzialmente c'è la tenda con apertura, si chiama Safari, questa apertura posteriore, e qui addirittura abbiamo anche il lavabo, insomma, è veramente molto 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 bello, molto interessante, è una bella soluzione economica, economica nel senso che la puoi trainare con quel che ti pare, molto molto interessante, una bella evoluzione, ok, hanno anche questa altra soluzione, che invece prevede, come avevamo visto quattro anni fa, il letto laterale, quindi si apre la portiera e fa la parte del letto dall'altra parte, dentro è molto interessante anche questa, sempre con il frigorifero, con la zona giorno, e queste sono belle soluzioni, anche la cucina lì, molto interessante anche questa qua, bello, bello, bravi, ecco, qui si, qui si intravede anche meglio quello che avevamo visto quattro anni fa, sostanzialmente, nella, nella cosa, bene bene, bravi farfalla, ok, questo è lo stand, lo stand di un produttore di queste cucine, interessanti queste cose che ci sono qua, e non si trovano, diciamo, da noi, equivalente, non è, non c'è da noi, adesso se riusciamo, perché, ecco qua, quindi, molto interessante, direi, primus, quindi dovrebbero essere un fornello o a gas, o a alcol, o a benzina, a naso, ma non sono sicuro, molto interessante, da questa parte abbiamo la, la roulotte, la caravan francese estensibile in tre parti, la Buer, che ormai è diventato, diciamo, un classico, molto, sempre molto interessante per la sua componibilità, è veramente un miracolo come possa ampliarsi e rimanere abitabilissima all'interno. Quindi qui proseguiamo, abbiamo una cosa molto curiosa, ci sono tanti rimorti piccoli, ecco, quello che dicevamo prima, è che effettivamente il mercato delle roulotte, soprattutto dei camper, sta impazzendo nei prezzi, e qui si sta cominciando a trovare delle soluzioni, prendiamo dei rimorchi di tipo commerciale, quindi comunque con dei prezzi relativamente bassi, e gli diamo un aspetto carino, e questo non si può dire che non sia carino, come anche questo, questo qui è per disabili, anche quest'altro qua, è un altro, sono tutti rimorchi commerciali, quindi dal prezzo molto basso di costruzione, perché la costruzione è quella classica dei rimorchi commerciali, qui puoi anche caricare un sacco di materiale, quindi è il concetto poi che abbiamo fatto la Deseo e altri, qui abbiamo un letto che scende, e questo è molto interessante. Qui comunque siamo su dei prezzi importanti, perché parliamo di 35.000 euro, quindi 35.000 euro non è poco. Com'è? Continuiamo con questi rimorchi abitabili, molto semplici, questo contrariamente a quello lì bianco, che l'apertura laterale è abbastanza normale, queste hanno l'apertura posteriore, e forse anche più interessante per certi versi, perché è più semplice. Diciamo, io mi ricordo un po' la mia famosa scatola di fiammiferi, va bene, che mi hanno tanto criticato, ma qui siamo sempre su dei rimorchi fuori strada, quindi sempre rimorchi dove sostanzialmente puoi dormire, e far da mangiare, adesso passiamo oltre perché far da mangiare all'esterno, i prezzi personalmente non li trovo particolarmente popolari, questa è una cosa molto carina, va bene, insomma, con la tannica da 20 litri, se ci metti la benzina fa anche caldo. Quindi anche qua abbiamo questi rimorchi, sembrano un po', ecco, la Cucù faceva tempo fa, delle creazioni molto interessanti in legno, faceva dei box in legno da mettere nei furgoni, tutti in legno tagliato laser ad incastro, si è evoluta, diciamo, è andata avanti in queste cose. Queste sono le A-Liner, Allora, la A-Liner è una roulotte pieghevole americana, io l'ho vista già tanti anni fa in America questa, diciamo, è molto interessante, come concetto molto strano, è una roulotte pieghevole, quindi si arriva a livello, diciamo lì, delle finestre, prima a quel livello lì, e poi si aprono le due parti insieme, e poi si tirano su le pareti, quindi sono, nel momento in cui le roulotte pieghevoli europee sono sparite, siamo andati a prendere il prodotto negli Stati Uniti. È molto interessante, io mi ricordo che cominciai a seguire Slim Potato Head, che è un fantastico influencer canadese, proprio perché utilizzavo una A-Liner, attenzione, A-Liner, non A-Liner, A-Liner, perché ha la forma di A, giustamente. Questo è uno dei modelli, diciamo, più costosi, grossi, beh, ecco, vedete, tipico degli americani, gli americani non curano molto, diciamo, certi dettagli, loro sono molto, lasciatemi dire, grezzi per certe cose, vedete come sono squadrati, non curano questi dettagli estetici, curano il fatto che la roulotte, il mezzo sia robusto, e, diciamo, è ben costruito, non ne frega niente, vedete, la costruzione è assolutamente molto robusta. Questo è l'importatore per l'Europa, se volete prendere nota. Interessanti, ovviamente, tutta l'accessoristica, tipo queste finestre, sono tipicamente americane, questa è proprio la classica finestra all'americana, sono molto diverse dalle nostre, e, niente, vediamo un attimo. Esatto. Questo è come risulta alla fine. Ecco, qui è una vecchia conoscenza, perché spongono sempre, anche in Italia, la caretta. Questa è un'azienda turca, turchi stanno cominciando a produrre davvero degli oggetti interessanti, comunque non ci fermiamo troppo, perché è una ditta, diciamo, nota. Questa, invece, non l'avevo mai vista, la X-Trailer. Anche questa, ricavata da un mezzo commerciale, rigido, è lo stesso schema di prima, c'è il letto che scende, più o meno, questo è, puoi caricare cose dietro, quindi questo è un po' una tendenza che cominciamo a vedere qua, interessante, comunque, come tendenza, perché sono molto intelligenti, li puoi utilizzare anche banalmente per caricare cose, so, la moto, ma anche per l'uso di tutti i giorni. Ecco, il signore ci fa vedere qualcosa, fa un altro letto, probabilmente. Ottimo. Molto interessante. Veramente è una bella, una bella versatilità. Quindi c'è il letto che scende, ma c'è possibilità anche di fare il letto. Sotto si possono tirare via, questi sedili qua, perché sono agganciati di fianco. È un modo intelligente, questo con il magnete si attacca dietro. Veramente è notevole. Si può fare un tavolo, ok. Ci mettiamo qua. Riesci a vedere cosa c'è? Ah, ok. Ok. Quindi, perfetto. Fantastico. No? Very good. So, you can put it also, ok. Interessantissimo. Questo è veramente ben costruito. Compliments. Ok. This is the company, questa è la fabbrica, che lo fa. Ok. Questa è un'altra possibilità, ok. Ottimo. Si può mettere a... Magnetico. Fantastico. Fantastico. Ottimo. Ottimo. Anche fuori. Anche fuori. Yeah. This is simply clever. This is simply clever. Questo è l'angolo del roulotte, dei camper Kabe svedesi, super costosi, anche super isolati, di altissima qualità. in questo video, non credo che farò molti, molti camper tradizionali, perché onestamente, sono più o meno tutti uguali. Quindi, andiamo sulle cose, che sono un pochino più particolari, un po' più interessanti. Ok. Questa è una cosa un po' particolare, l'ho ancora vista, il berlingo, con la carenatura, d'epoca, diciamo, come abbiamo visto il Ducato. Ora vediamo anche il berlingo, cioè dentro è comunque, si vede chiaramente, che è un berlingo, è normalissimo, e l'hanno carenato, in modo particolare, sembra un mezzo d'epoca, molto molto carino. Comunque, al di là del fatto, che sia carino o non carino, è molto carina anche l'ambientazione, cioè questo che è, è un berlingo, passo lungo, credo, però, ha il letto sopra, alzabile, e dentro, è comunque, comunque attrezzato, insomma, ci si sta, è molto più finito, rispetto, è molto originale anche, il tipo dello stand, diciamo, è molto particolare, come, come tipo di, di ambientazione. Qua vediamo invece, la versione più normale, che sicuramente, comunque, è una cosa interessante, vediamo che non hanno neanche tolto i sedili dietro, quindi questo è sicuramente, un allestimento, che si può, si può togliere, quindi, o metti e togli, una cosa che non ho mai visto, in presenza, il fatto che lì in fondo, è, un lavandino, a cui puoi lavare le mani, però è bello questo qua, molto bello, molto bello, molto bello, molto bello, si si, molto interessante, perché risolve il problema, che hanno queste furgonette, di non avere mai, il posto per, questo è, la marca, c'è da dire, che costa abbastanza, perché questo allestimento, così com'è, costa quasi 60 mila euro, ricordate che qua, lì va al 19%, quindi, la roba costa, portata in Italia, costa meno, se la comprate qua, dovete comunque pagare, viva in Italia, però, interessante, molto bello, e direi che attira anche molto l'attenzione,